e adesso rock melody come ultimo pezzo musica 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 Il programma del concerto è terminato, adesso ci saranno delle altre canzoni unite ad altre immagini simpatiche di quel pomeriggio abbastanza stravagante che è stato quello del 2 marzo. Vedremo quindi un pochettino qualcosa di vario e straordinario dal punto di vista dell'immaginazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!